L'interrogazione del consigliere Mori questa mattina riporta l'attenzione sul raddoppio o non raddoppio, ampliamento o non ampliamento di San Zeno contenuto comunque nel piano interprovinciale dei rifiuti che è ancora in fase di studio di approvazione. Il Comune come si pone? Innanzitutto credo che si possa dire che le posizioni del Comune di Arezzo trovano un'affermazione nel momento in cui non si farà come previsto, non è previsto più il raddoppio dell'inceneritore. Rimarrà a 40.000 tonnellate? No, rimarrà. Per noi è questa la realtà, cioè che l'impianto attuale è sufficiente a soddisfare il fabbisogno dell'ambito provinciale, ovviamente sviluppando la raccolta porta a porta come previsto e raggiungendo gli obiettivi del 70%. Quindi nello scenario futuro può rimanere questo. La provincia nel piano interprovinciale indica ovviamente un range di fabbisogno, quindi una fascia di fabbisogno fra 42 e 55. Questo è l'unico elemento però su cui si tratta di lavorare e ovviamente saranno i comuni a individuare le soluzioni. Il fatto che ballino i 10.000 tonnellate non sono quelle che portano sicuramente a un raddoppio dell'inceneritore, assolutamente, oppure per noi è sufficiente la situazione attuale. Questa è la posizione del Comune di Arezzo. Grazie. Grazie.